Francesca Sofia Novello non potrebbe desiderare di più. Sul social scrive. La vita ti riserva regali che neanche immagini. Ed è proprio così. La modella, compagna incinta di Valentino Rossi, festeggia 31 anni con una cena a sorpresa di lusso organizzata dal suo campione. Per lei arrivano anche regali esclusivi. Il dottore organizza per la donna che ama e che le donerà un'altra figlia, dopo Giulietta, nata a marzo del 2022, una cena esclusiva all'Osteria Francescana di Modena, ristorante Tre Stelle Michelin di Massimo Bottura. Francesca Sofia è raggiante. La novello prima riceve il caloroso abbraccio della sua bimba che adora e che presto avrà una tenera e dolcissima sorellina e un enorme mazzo di rose rosse. Mini abito in maglia corto e giacca o versizze, poi si reca nel famoso locale dello chef. Il popolarissimo cuoco per lei prepara un piccolo dolce al cioccolato con una candelina sopra su cui soffiare. Sul piatto si legge. Auguri Francesca, sul tavolo dove siede la coppia è impossibile non notare un'enorme scatola con su scritto Cartier, famoso brand di gioielli e accessori preziosi. Sicuramente Valentino le avrà acquistato un super dono. I due sono innamoratissimi. Insieme dal 2018, accoglieranno una nuova cicogna e poi, chissà, magari arriveranno pure le nozze, anche se non paiono una loro priorità.